Gossip uomini e donne, Sara Affifella e Lorenzo Riccardi sempre più vicini e complici il trono di Sara non sta riscuotendo grandissimi consensi da parte del pubblico di uomini e donne. La parte c'è chi approva il suo atteggiamento e dall'altra c'è chi non riesce a comprendere come possa continuare ad uscire con Lorenzo Riccardi. Il corteggiatore sta facendo molto discutere, anche se ad oggi pare essere il preferito della Affifella e non solo. Da social arrivano infatti alcuni strani e interessanti indizi. Nonostante Maria De Filippi abbia rivelato che la mamma della ragazza preferisse Luigi Mastroianni. Ora le cose ero essere cambiate. La mamma di Sara pare essersi lasciata scappare alcuni strani like su Instagram. Il blog il vicolo delle news ha infatti riportato gli screenshot di alcuni, mi piace, che la signora pare abbia messo a dei precisi commenti. A quanto pare, la donna aver cambiato idea sui corteggiatori presenti in studio. La signora sembrerebbe aver messo like ad alcuni commenti in cui si fa il tifo per Lorenzo Riccardi e si denigra Luigi Mastroianni. In ogni caso, una cosa simile è già accaduto in passato con le mamme e i papà di altri tronisti e non per questo vuol dire che la ragazza sia davvero decisa a scegliere il giovane di Milano. Non è poi da escludere la possibilità che si sia tratta di un semplice errore. Alcune settimane fa è accaduto anche per Milu Faradati. Uomini e donne, Sara affitella tra Lorenzo e Luigi e mentre si cerca di capire chi sia il favorito tra Lorenzo e Luigi, Sara cerca di proseguire al meglio il suo percorso da tronista di Uomini e Donne. Il pubblico del Trono Classico ha chiaramente preso le parti di Mastroianni e sperano di vederlo sul trono nel caso in cui non verrà scelto. Nel frattempo, Riccardi ha fatto speciale dedica alla affifella tramite i social. Sulle Instagram Stori ha infatti pubblicato la canzone che la redazione del programma ha inserito nell'esterna del loro primo bacio.